salve stasera 20 e 30 son of the forest sons of the forest su twitch però cazzo qua sotto in descrizione vi lascio il link di twitch saremo in live io odry la varchiria ansiosa e simo il pirla che arriverà più tardi come al solito perché si deve far aspettare come le signorine signorine quindi mi raccomando 20 e 30 puntuali